Mancano pochi giorni ormai alla scadenza per la presentazione dei progetti relativi a un'importante opportunità per gli imprenditori del Vallo di Diano. Cultura Crea è un nuovo programma di investimenti che può rappresentare un volano per l'economia locale, lanciato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo in collaborazione con Invitalia e subito accolto dalla comunità montana Vallo di Diano in sinergia con la delegazione Vallo di Diano della Confartigenato Salerno e la Banca Montepruno. Il Bando Cultura Crea è un programma di incentivi per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria culturale, turistica e dell'artigianato tradizionale e per sostenere le imprese no profit che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio. All'interno del Bando viene data particolare attenzione ai comuni del Vallo di Diano attraverso l'attrattore principale della Certosa di San Lorenzo a Padula. Il programma è indirizzato alle imprese, inclusi team di persone che vogliono costituire una società e ai soggetti del terzo settore dell'industria culturale e turistica. Il finanziamento è strutturato fino a un massimo del 40% a fondo perduto e un ulteriore 40% a tasso zero da restituire in sette anni. È prevista anche una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di legalità. Sono soddisfatto, ha dichiarato il presidente della comunità montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, di poter dar seguito al nostro incontro di promozione di questo bando perché rappresenta un'ulteriore occasione per l'economia del territorio, grazie anche al supporto di Confartigenato Vallo di Diano e della banca Montepruno e questo è il modo di fare rete e creare valore.